il camion magico ehi pic dove vai così di corsa l'albero saggio ci sta chiamando e poi smettila di arrivarmi sempre alle spalle scherzi a parte il pipistrello ha bisogno di aiuto è nella foresta e non riesce a trovare la sua famiglia andiamo subito sbrigati oggi è un giorno speciale per lui questi ragazzi sempre di fretta grazie a me troveremo subito il pipistrello e come perché parlo perfettamente il linguaggio di pipistrelli guarda qui o c'è mai terribile non è colpa mia se il loro linguaggio è così ciao finalmente vi ho trovato aiutatemi che cosa è successo stavo semplicemente planando e improvvisamente ho perso di vista la mamma e il papà e sono scomparsi e oggi è un giorno speciale perché non preoccuparti pipistrello li chiamerò io aspetta forse dovrebbe chiamarli lei da sola allora ci provo io nessuna risposta fammi riprovare silenzio penso di sentire qualcosa lo senti andiamo sono intrappolati da questa grande roccia state indietro amici ci pensa jad guarda che così fai solo peggio la stai spingendo dentro so cosa sto facendo lasciami stare oh jet smettila bambini dobbiamo estrarre la roccia dalla grotta diamo un'occhiata al mio camion cosa ci può servire una sega una corda o un cacciavite una corda una corda certo jet prendila perfetto e ora legala intorno la roccia ottimo lavoro qualcuno ha bisogno di jet mamma papà siete liberi pic lascia andare la corda a 1 2 3 oh no l'ingresso è bloccato come possiamo tornare nella caverna tornare perché è la nostra casa è la nostra casa vini è tempo di trasformarsi abbiamo bisogno di liberare l'ingresso della grotta in cosa posso trasformarmi un treno un autobus o un bulldozer bulldozer pic pic inizio la trasformazione ma cosa succede oggi è un giorno speciale è il compleanno di nostra figlia wow odori compleanni buon compleanno e allora festeggiamo bambini in ogni episodio c'è una chiave inglese nascosta da qualche parte guardate bene dove si trova ciao 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 ciao